Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Cleto Festival in compagnia di Maria Dolores che ci spiegherà di quale compagnie fa parte perché è qui oggi al Cleto Festival con le sue attrazioni che in questi tre giorni hanno deliziato i bambini ma anche gli adulti. Anche gli adulti. Siamo molto felici di essere al Cleto Festival perché è un festival che abbiamo nel cuore e lo frequentiamo da tantissimi anni. Quest'anno siamo venuti con un collettivo Spaghetti Caravan che è composto dalla nostra compagnia Fuoco e Clonerie e da altre compagnie Circo Riccio dalla Sicilia e Annina dalla Puglia. L'ultima sera abbiamo proposto il nostro cabaret legato al cibo, alla cucina, agli spaghetti che creano un legame tra i rapporti e anche i luoghi. Abbiamo cercato di unire tre realtà del sud. Il tema di quest'anno del Cleto Festival è l'indifferenza, è molto forte. Noi seguiamo da tanti anni il Cleto perché è una realtà che durante l'anno si spende molto per realizzare questo evento che non è solo questi tre giorni ma è un percorso che dura tutto l'anno e quindi meritano tanto supporto e vedo che è avvenuto. Tra l'altro in questi tre giorni si sono contaminate positivamente musica, arti, cibo. Tu adesso lo hai detto ma noi lo abbiamo assaggiato, abbiamo fatto addirittura un percorso sensoriale ascoltando le storie. È stato bellissimo. Sì, i ragazzi puntano molto sul proporre il cibo a chilometro zero. È una realtà innovativa, non è un modo solo per coprire le spese ma è un modo per proporre qualcosa di nuovo e farlo attraverso, non dimenticando la tradizione. C'è una contaminazione tra passato, presente e futuro. I ragazzi della piazza sono stati bravissimi in questo. Infatti la partecipazione maggiore è dei giovani in questo festival. A questo punto io ti chiedo, Maria Dolores, dove possono ritrovarvi? Facebook, Twitter, se ci sta una pagina internet o i video? Sì, sì, sì. Abbiamo più pagine Facebook, quello del collettivo Spaghetti Caravan oppure Lannina, Circo Riccio e Compagnia Fuoco e Clonerì. Perfetto. Io ringrazio Maria Dolores, Scleto Festival, Libri TV, Riccardo Cristiano. Grazie.